Nel 2021, per il centenario della morte di Dante, dedicherò il mio lavoro teatrale di nuovo alla Divina Commedia, riscoprendone e mostrandone l'assoluta teatralità presente del resto fin nel titolo che Dante dà al poema. In collaborazione con la Regione Toscana, l'Accademia della Crusca, l'Associazione Teatrale Pistoiese, il Teatro Metastasio di Prato e altre forze toscane, riprenderò in mano a distanza di trent'anni tre drammaturgie che fece realizzare a tre grandi poeti novecenteschi, Edoardo Sanguinetti, Mario Luzzi e Giovanni Giudici, che si dedicarono rispettivamente a Inferno, Purgatorio e Paradiso. Tra il 1989 e il 1992 ho dedicato il mio lavoro teatrale alla Divina Commedia e al linguaggio dantesco. Per alcuni anni, in collaborazione con il Teatro Metastasio di Prato, che voleva continuare l'esperienza laboratoriale iniziata da Luca Ronconi dieci anni prima, ho creato attorno a Dante una vera officina di teatro per tre gruppi di validi attori usciti dalle maggiori scuole italiane di recitazione. Non erano solo la lingua dantesca o i versi perfetti o il racconto del viaggio nell'oltremondo ad affascinarmi. Allora, come ora, ad affascinarmi è la presenza di personaggi indimenticabili, con i loro umani e drammatici conflitti, le notazioni spaziali e luminose, vere e proprie didascalie di luce e di scenografia che Dante inserisce nel poema, come se un regista combinasse vari elementi teatrali per un'apparizione del primo attore. E poi ci sono le scene di gruppo, i monologhi, le parti dialogate, sono insomma affascinato dal teatro, anzi dai mille teatri presenti nella commedia. Affidai la drammaturgia delle tre cantiche a tre grandi poeti italiani, perché volevo creare un ponte tra la poesia dantesca e la poesia italiana del Novecento e desideravo che questo ponte nascesse proprio dentro il teatro. Affidai a tre poeti quindi il compito di creare tre drammaturgie. Sanguinetti creò una commedia dell'Inferno, sottolineando il plurilinguismo dantesco e come i personaggi dell'Inferno si esprimano attraverso monologhi rabbiosi. Mario Luzzi, con il Purgatorio, La notte lava la mente, che aveva come sottotitolo drammaturgia di un'ascensione, ricreò il clima dolcemente affettuoso e severamente penitenziale della seconda cantica, dando spazio al dialogo che a mio vedere è l'elemento essenziale del Purgatorio. E infine con Giovanni Giudici affrontammo il Paradiso e Giovanni Giudici creò il Paradiso perché mi vinse il lume d'esta stella, dove riuscimmo a sottolineare la corallità musicale delle voci della terza cantica. Fu l'occasione appunto per riscoprire il peso e il mistero della parola dantesca all'interno della lingua italiana, quella parola che io già avevo affrontato nel mio lavoro ma che adesso mi investiva con l'urgenza di penetrare le strutture comunicative della mia lingua, l'italiano, e di riuscire a creare per il teatro una lingua. In seguito mi sarei dedicato a Mangioni, a Testori, a Pasolini, a Pirandello, sempre nella consapevolezza che mi ha restituito l'opera di Dante che solo nella lingua materna possiamo essere vissuti dalla parola nel momento stesso in cui la viviamo e che possiamo usarla sia nella sua stratificazione orizzontale di significati comunicativi, sia nella verticalità di plurime valenze espressive, filosofiche, religiose, sociali, politiche. Trent'anni dopo la mia percezione teatrale della commedia è cambiata. Se allora avevo voluto risalire attraverso Dante all'origine del teatro e della teatralità considerando la commedia come il primo grande esempio di testo teatrale italiano, oggi vorrei riscoprire la fisicità drammatica e psicologica, la complessità semantica della parola dantesca e la sua assoluta contemporaneità. La lingua parlata da Dante è ancora la nostra. Vorrei individuare i percorsi multipli, i percorsi narrativi presenti, tutti intrecciati nel loro insieme all'interno del testo. Vorrei pensare a percorsi narrativi che possano avvenire simultaneamente sulla scena, coinvolgendo lo spettatore nell'elaborazione di una rotta dentro il testo. Nel 2021 affronterò di nuovo la Divina Commedia con un nuovo gruppo di attori e l'affronterò attraverso le tre drammaturgie che trent'anni fa furono composte da Edoardo Sanguinetti, Mario Luzzi e Giovanni Giudici. Ma il mio punto di vista, trent'anni dopo, la mia percezione della commedia è cambiata. Trent'anni fa volevo risalire attraverso Dante all'origine del teatro e della teatralità italiana e mescolai tutti i generi e tutti gli stili che appartengono al teatro per comporre i miei spettacoli. Oggi invece vorrei riscoprire attraverso il... oggi invece vorrei riscoprire attraverso questo nuovo lavoro sulla Divina Commedia le radici della nostra cultura, della nostra cultura filosofica, etica, politica, quelle radici che sono espresse all'interno del poema. Come afferma la studiosa Anna Maria Chiavacci nell'introduzione alla Divina Commedia per i Meridiani Mondadori, la poesia di Dante coglie e tramanda lo spirito profondo di quella cultura nella quale l'Europa e io direi anche tutto l'Occidente ancora attinge le ragioni interiori del suo stesso esistere. E con questo nuovo lavoro che dedico a Dante e alla Divina Commedia vorrei mostrare come Dante non sia solo il teologo, il moralista, il politico che negli anni del liceo e dell'università c'è stato mostrato. Ma vorrei qualcosa di più, vorrei che riscoprissimo nella sua opera e lui l'appassionato ricercatore di quella che Dante stesso chiama l'umana felicità, cioè la piena realizzazione dell'uomo. Dante racconta un uomo insicuro del suo destino, però lo fa da poeta, lo fa da poeta immerso nella storia e che della storia si fa carico e della storia soprattutto conosce tutte le trasformazioni. Per fare questo vorrei potrei attingere nei miei prossimi spettacoli molto di più alle arti visive, molto di più alla musica e al canto, molto di più alla danza e fare di questa nuova messa in scena della Divina Commedia dantesca fare una grande opera totale che utilizza tutti i mezzi che la cultura novecentesca occidentale ci ha offerto principalmente la psicanalisi, poi la psicologia, poi le teorie logico-strutturali, le nuove teorie linguistiche. Ecco, per fare in modo che si possa arrivare ancora più in profondità e fare in modo che attraverso questo dispositivo di conoscenza meraviglioso che è il teatro si riesca a realizzare una forma di conoscenza condivisa tra attore e spettatore.